Intervento dei vigili del fuoco di Ivrea e San Maurizio Canavese, oltre che del carrofiamma, nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio, in strada del beneficio a San Giusto Canavese. Le fiamme sono divampate all'interno di un capannone situato nel cortile di una villetta. Non sono stati registrati feriti né intossicati, sul posto anche i carabinieri, in corso degli accertamenti sulle cause del rogo. Grazie!